Alcune creature usano le luci come richiamo d'amore. Le macchie luminose di questo elateride hanno uno scopo ben preciso. Attrarre una compagna. E vedendo un bagliore proveniente da questo fungo, è convinto che lei si nasconda all'interno. Ma si tratta di un inganno. Il bagliore proviene dal fungo stesso. È confuso, la cerca dappertutto. E alla fine si trova ricoperto di spore fungine. Disperdere spore ovunque. E così facendo, invece di riprodursi, contribuisce alla riproduzione del fungo.